sto guardando queste mie bellissime piante perché quest'anno sono davvero soddisfatta facciamole corna tra qualche giorno iniziamo la raccolta e in questo video ti parlo di tutto quello che ho fatto per portarle a questa altezza qui buongiorno dalla campagna se non lo sai mi presento sono francesca contadina di professione in questo video ti parlo delle mie piante di pomodoro se mi conosci già sai che io cerco di darti consigli utili o almeno quello che faccio io sulle mie coltivazioni quindi se non sei ancora iscritto falla adesso a questo canale perché è gratuito e seguimi anche sul mio profilo instagram allora intanto quest'anno almeno dalle mie parti io sono zona versilia via reggio quindi costa toscana il clima è stato molto pazzerello ma quello penso in tutta italia fatto freddo caldo botte di caldo insomma quindi non ci si è capito niente e anche le piante insomma è stato un pochino difficile controllarle quest'anno però cosa che ho notato la differenza è che quest'anno siamo riusciti molto di più a controllare la cascola dei fiori infatti siamo al contiamo il numero dei palchi 234 questo è il quinto palco questo è il sesto vabbè non ancora legato il quinto palco e guarda ha già legato quindi un'ottima allegagione sono molto soddisfatta perché l'anno scorso abbiamo avuto se ti ricordi in diversi problemi sulla allegagione probabilmente il caldo anche gli insetti impollinatori non riuscivano a lavorare bene ma quest'anno ce l'abbiamo fatta un po complice il clima un po come sempre che utilizzo loro c'hanno già tutta la casetta sporca andiamo si vanno ti faccio vedere un po da più vicino sono i bombi impollinatori e io utilizzo loro ormai sono diversi anni ora sicuramente saranno a giro proviamo a vedere se esce qualcuno utilizzo loro perché nonostante abbia anche le mie cassette di api qui vicino alle coltivazioni ma le api non vanno sui fiori di pomodori insomma questo è un ottimo punto che insomma quest'anno mi fa molto contenta però come si diceva all'inizio come ho fatto a portarle fino a quest'altezza qui se mi hai seguito anche durante il trapianto io ho fatto come sempre un'ottima concimazione di base a base di stallatico pellettato ho lasciato circa un mesetto interrato nel terreno e poi l'ho trapiantati basta una settimana dopo il trapianto ho iniziato con la borlanda fluida ora te li faccio vedere poi ti lascio anche il link in descrizione perché ho già fatto un altro video proprio dedicato alla borlanda se ti interessa sapere cos'è ti lascio il link in descrizione comunque ti accenno è un concime liquido di origine vegetale te la faccio un attimo vedere questa qui la borlanda è praticamente da diluire un pochino nell'acqua però ti ho detto ti lascio il link in descrizione se ti interessa vattela a vedere comunque lei e poi cosa abbiamo fatto una volta che iniziava la formazione del frutto abbiamo iniziato a dare un pochino di integratore di calcio anche qui se ti interessa ti lascio il link in descrizione te ne parlerò poi in un prossimo video proprio dedicato a modino per quanto riguarda il marciuma picale perché quest'anno ho avuto dei problemi che non sono dovuti solo alla mancanza di calcio ma anche a sbalzi idrici ti farò vedere poi che su alcune piante ce l'ho anch'io quindi rimani aggiornato e segui magari il prossimo video perché in questo video appunto ti parlo delle problematiche e delle cose belle insomma che hanno avuto questi pomodori un consiglio utile che mi sento di darti perché l'ho provato insomma dopo diversi anni di coltivazione quest'anno sono veramente soddisfatta ti ho detto al momento e speriamo che tutto vada bene perché ho trovato penso la formula proprio giusta come ti ho detto ho un'ottima concimazione di base la borlanda e qualche integrazione di calcio però all'inizio se mi hai seguito io ho fatto anche il bagnetto pretrapianto con il fungo utile il tricoderma che mi ha aiutato molto a sviluppare le radici ora magari scaviamo anche un pochino sotto così ti faccio vedere anche bene l'apparato radicale sviluppando l'apparato radicale lo sai da te la pianta riesce a mangiare meglio va a cercarsi più tutte le cosine da mangiare e assimila meglio e riesce a svilupparsi appunto meglio poi ti farò vedere anche un video apposito dedicato dove utilizzo un prodotto a base di microelementi e rame sempre biologico che mi aiuta con la maturazione del frutto e a ridurre anche gli stress della pianta che magari viene attaccata anche da malattie quindi come ti dicevo prima consiglio utile è quello di spendere magari un pochino di più se fai l'orto magari ti sembrano soldi cioè dici vabbè faccio prima andare a comprare il pomodoro o qualche altro ortaggio invece di coltivarmelo da solo però vabbè questo è tutto un altro discorso cioè se iniziamo a abbastire sto discorso qui ecco non so chi rivince io te lo dico lo faccio per le mie coltivazioni spendo un pochino di più però il risultato è veramente ottimo ora dai andiamo ti faccio vedere che i pomodori stanno maturando guarda questo qui è un san marzano sta iniziando a virare il colore guarda questi qui sono le piante di datterino sempre solita mandata piantati sempre nel solito momento questo qui è il datterino rosso che sta maturando guarda anche là ormai sono partiti eh ma guarda di qua c'è il datterino arancione e di qua quello giallo io spero di averti dato consigli utili insomma io ti ho detto quello che faccio io come al solito ti aspetto in un prossimo video e noi ci aggiorniamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.